Gli investigatori sono ancora sulle tracce dei killer di Bartolomeo D'Ambrosio, il presunto boss di Altamura ucciso il 6 settembre scorso. Intanto nella città murgiana sale la polemica sul ruolo delle istituzioni e di alcuni rappresentanti politici locali in questa vicenda. Uno fra tutti Nicola D'Ambrosio, presidente del Consiglio Comunale di Altamura e procugino del presunto boss. Dopo la bacchettata del sottosegretario all'interno, Alfredo Mantovano, che ha definito inaspettate, inammissibili e fuori luogo le dichiarazioni di alcuni esponenti della maggioranza sulla vittima, descritto come persona portata verso il prossimo sulla strada di una promozione sociale, invitando a prenderne le distanze, Nicola D'Ambrosio è tornato a parlare. Questa volta però non lo ha fatto sui giornali, ma in una caserma, convocato dai carabinieri per chiarire le dichiarazioni rilasciate alla stampa sui rapporti privilegiati della vittima con alcuni militari. Avrebbe riferito di corsette mattutine di Bartolomeo in compagnia dei carabinieri, di amicizie importanti del presunto boss nelle forze dell'ordine, che gli avrebbero garantito protezione. Sentito in caserma, avrebbe però negato di aver rilasciato queste dichiarazioni. Grazie.